Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. In questo nuovissimo video andremo a vedere delle curiosità. Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Prima di iniziare con il video vero e proprio, voglio darvi un piccolo... a commentarmi. Il video di oggi è una raccolta... Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Prima di iniziare, voglio rispecificare una cosa che avevo detto nella live che ho fatto ieri. Allora, alcune persone mi hanno chiesto, giustamente, ma perché non carichi più i video? Allora, spieghiamo bene questa cosa. Io i video li carico. Non mi sono mai chiamato di caricare i video. Tuttavia, ne carico di meno rispetto al prima perché, appunto, sto dedicando più il tempo anche alla ricerca del lavoro, motivo per la quale mi trovo qui in Belgio. Ovviamente, vivere da solo e mantenersi da solo ha un certo costo. E per poter mantenere, sostenere questo costo, è importante avere un lavoro. Oltre che anche per una manutenzione del canale, perché io ho in mente anche di apportare dei miglioramenti in quanto di qualità e quant'altro sul canale. Ovviamente, però, servono i money, perché senza i money non si può fare questa cosa. Quindi, per questo motivo, io ho ridotto la flusso di video, ma ovviamente non l'ho ridotto, assolutamente. Quindi, adesso sapete questa cosa. Un altro piccolo avviso che vi voglio dare, sempre prima di iniziare, è che nel risultato di questo video troverete il link del mio annuncio ebay che sta anche quasi per scadere e rinnoverò poi. E di qui ai prossimi video, man mano, anche il link di tutti gli altri annunci, perché dovete sapere che metto in vendita anche un altro minerale, ovvero una bellissima atto, ma non la scioglite mia, perché è interessato, può scrivere sotto i commenti e può scrivere molto più semplicemente sotto, cliccando sul link della mia pagina Facebook, può mandare un messaggio sulla mia pagina Facebook, in modo tale che io posso allegarli in risposta delle foto del pezzo, perché è un bel pezzo di scioglite, ma ovviamente non è l'unico. Per saperne di più, non esitate a scrivermi. Il video di oggi è una raccolta di tutte quelle clip che ho registrato in quel negozetto che sicuramente ricorderete, in cui comprai la punta di ametista, anche il bruchese, per dire alcuni spezzi di questa. E ovviamente io ci sono ritornato, ho visto che c'era una delle bellissime niente, e lui ha detto che devo assolutamente registrare e immortalare questi altri pezzi, che devo dire sono veramente molto belli, mi hanno tentato, e adesso vi lascio subito queste clip. Grazie a tutti. 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 che si trova qui, questo punto qua, questi cristalli qui, ci sono dei cristalli qui sotto ad esempio, ma questi altri, tipo questo cristallo qua, questo cristallo qua, questi cristalli qui, quest'altro cristallo qua, quest'altra parte qua, questi, questi sono rubeliti, quindi rubeliti con l'epidolite in matrice, perché comunque c'è anche la matrice, la roccia madre diciamo, questo pezzo presenta anche dei punti tipo qua, probabilmente c'è anche del quarzo, un pezzo molto bello e nel clip di prima avete visto l'altro pezzo come questo ma molto più grande, che è praticamente la stessa cosa, si vede ancora di più una zona in cui è presente appunto il quarzo. Ragazzi, scrivetemi nei commenti quali di questi pezzi vi è piaciuto di più, vi invito a lasciare un bel pollice in su se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, vi invito anche a seguirmi sulla mia pagina facebook e il mio profilo instagram, trovate i link in descrizione e a proposito il link troverete anche il link del mio annuncio su ebay dei minerali che vendo e a questo poi man mano si aggiungeranno anche gli altri annunci e degli altri pezzi che man mano metterò in vendita, perché interessato può anche commentare sotto al video ma più semplicemente può vedere sui annunci miei ma anche mandarmi un messaggio cliccando il link in descrizione della mia pagina facebook e ovviamente l'idea leggerò anche delle foto e volendo anche qualche breve video dei pezzi su questi pezzi così da passi un'idea, fate davanti perché i pezzi sono veramente pezzi e qualitativamente buoni e faccio ovviamente dei buoni prezzi, fatto anche per sostenere il canale, perché i soldi che si ricavaranno dalle vendite di questi pezzi sono veramente li andrò a utilizzare per migliorare il canale, quindi se volete appunto vedere queste migliori e queste modifiche fatendo bene per il canale non esitate e detto questo noi come sempre ci vediamo in un prossimo video! Ciao!